Per quanto riguarda gli indicatori classici il rapporto anche del rendimento del decennio americano è molto importante perché anche secondo un recente studio uscito di Morgan Stanley individua nel livello di 4,35 e 4,40 il livello di spartiacqua per far sì che le valutazioni azionari siano più o meno care rispetto appunto al rendimento che ti può fornire un decennio americano. Quindi nel momento in cui dovesse andare sopra il 4,40 comincia un pochino a soffrire anche il mercato azionario. C'è da dire tuttavia che il mercato sta vivendo una fase di bonaccia quindi abbiamo vissuto l'esperienza di vedere nuovi massimi e adesso comunque c'è un discreto consolidamento ma con una volatilità molto bassa vicino ai minimi. Ma se vogliamo anche individuare quelli che possono essere degli indicatori macroeconomici è molto importante anche verificare nel futuro il cosiddetto PCE che era aumentato più del dovuto ed è un indicatore molto amato dalla Fed. E che è quello sul quale deciderà se eventualmente tagliare o meno nel prossimo futuro. Per finire un altro indicatore è sempre molto importante in questa fase dove l'inflazione rimane comunque il timore più evidente per tutti gli operatori e anche il mercato del lavoro che ultimamente l'abbiamo visto un pochino così in raffreddamento se non in stabilizzazione. Ecco le borse internazionali e in particolare quelle statunitensi cui tutti guardano come guida hanno già scontato gli attesi tagli del costo del denaro da parte delle banche centrali? Beh c'è da dire che a inizio anno si pensava il mercato scontava ben sei tagli da parte della Federal Reserve e anche della Banca Centrale Europea quindi il mercato è salito molto proprio su queste aspettative. Non dimentichiamoci che abbiamo vissuto comunque quattro mesi eccezionali perché novembre, dicembre, gennaio e febbraio, anche marzo perché la correzione è avvenuta in aprile, sono i cinque mesi fantastici perché il mercato è salito del 30% praticamente in questo periodo. Poi ha avuto una piccola correzione in aprile di circa 4-5 punti proprio perché i tagli così che ci aspettavamo Powell aveva detto che avrebbe ritardato e neanche di poco perché insomma prima si parlava di marzo, poi di aprile, poi giugno. Anche giugno probabilmente non verrà tagliato nulla. Quindi possono, la grande domanda è, possono le borse salire prima sulle aspettative di un taglio dei tassi e poi continuare a salire anche se questi tagli saranno di meno? Non lo so sinceramente, però è molto probabile che allo stato attuale i tagli che la Fed possa fare saranno di circa due nel corso del 2024 e forse la Banca Centrale Europea dovrebbe farne tre. Tra l'altro il taglio a giugno oserei dire che è scontato. Se per caso la Gard non tagliasse credo che potrebbe succedere un po' di tourbillon sul mercato.